La sabienza si è costruita alla casa, ha intagliato le sue sette colonne, ha ucciso gli animali, ha preparato il vino e ha imbattito la tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto accorra qui, a chi è privo di senno essa dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato, abbandonate la stoltezza e vivrete, andate ai diritti per la via dell'intelligenza. Chi corregge il bel fardo se ne attira il disprezzo, chi rimprovera l'impio se ne attira l'insulto. Non rimproverare il bel fardo per non farti odiare, rimprovera il saggio ed egli ti amerà. Dà consigli al saggio e diventerà ancora più saggio, istruisci il giusto ed egli aumenterà la dottrina. Fondamento della sabienza è il timore di Dio, la scienza del santo è l'intelligenza. Per mezzo mio si moltiplicano i tuoi giorni, ti saranno aggiunti anni di vita. Se sei sabiente, lo sei a tuo vantaggio. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. Siamo adorati, adorati e ringraziati ogni momento. Il santissimo, il santissimo, il santissimo, il santissimo. Come sempre, l'intervenzione c'è veramente tantissima sabienza, davvero, tanta, tanta roba. La benedizione di questa sera perde il titolo dall'Inci, il brano che abbiamo ascoltato, che la sabienza si è costruita la casa. Noi sappiamo che la casa della sabienza, detta anche la sede della sabienza, era Madonna. Perché? Perché la Madonna è la madre di Dio. La sabienza, ormai l'abbiamo già visto in diverse circostanze, la sabienza non è altro che la persona, il verbo divino, la seconda persona della Santissima Dettà, che appunto nella trial intervitaria, come dire, in termini semplici, funge un po' come intelletto divino. È il verbo eterno, quello che poi si sarebbe fatto uomo, che è quello di Maria Santissima. Sapienza e intelligenza infinita, che appunto si presentano come luce delle nostre anime. E dire che la sabienza si è costruita una casa, tagliando le sue sette colonne, quindi interpreti l'hanno visto in queste sette colonne, sia le sette donne dello Spirito Santo, che Maria Santissima, si trovano tutti in maniera perfetta, sia anche le sette virtù cristiane, le teologali, e le quattro cardinati, che sono il corretto della santità. Noi sappiamo che tutte le virtù morali hanno loro origine nelle quattro cardinali, che appunto si chiamano cardinali, perché sono i cardini, per le virtù che appartengono a ciascuna tipologia di esse, quelle che sono con la giustizia della potenza, della fortezza e della temperanza. E dire questo significa che il Signore sta facendo un duplice invito, a proposito del prologo che abbiamo fatto di questa meditazione, gli inviti che fa il Signore, che purtroppo spesso incontra noi no, la parte delle anime, delle creature, di accorrere a Lui oppure di accorrere alla casa della sabienza. La Madonna, sono due secoli che sta molto agendo, intervenendo, parlando, educando, ammaestrando, insegnando la sabienza a colui che l'ascolta, che si lasciano ammaestrare da lei. La sabienza dice, nelle frasi molto importanti, di chi è inesperto ancora qui, abbandonate la stottezza e le preti. L'inesperienza. Sappiamo che nella vita l'esperienza è una cosa molto importante. Facciamo sempre qualche esempio per comprenderci. I genitori non sono nati padre e madre, imparano a fare il padre e la madre dalle esperienze. Chi ci ha dati i figli sa bene che si comporta con l'ultimo figlio, non come si è comportato con il primo, perché il primo figlio è una novità. E per quante cose ci possano aver insegnato i nostri genitori, l'esperienza di questa novità è affrontata senza un bagaglio di una conoscenza acquisita per via d'esperienza, appunto. E purtroppo l'esperienza può fare un sacco di sciocchezze. Io tante volte, insomma, ho detto ai miei cari fedeli, non è la stessa cosa fare un parro con un secondo incarico, non sarà la stessa cosa se ci sarà farlo da terzo incarico, perché più si va avanti, più si raffinano le nostre... il bagaglio è un bisogno dalle esperienze. Questa esperienza o la abbiamo, oppure la andiamo a cercare nella sabienza divina, che sopplisce appunto la mancanza delle esperienze sensibili e ci preghiere da tanti sciocchezze. La sordezza è il contrario dell'intelligenza, lo stonto è colui che agisce in maniera sconsiderata, senza ben ponderare, senza riflettere, prima di agire. Ed anche la precipitazione, il figlio di questa sordezza può fare un sacco di stupidagli, è la vita. E il Signore ci previene da queste cose oppure ci corregge. Qui è molto importante farsi attenti a queste sentenze molto profonde. Chi corregge il beffardo, se ne attira il disprezzo. Chi riproverà l'impio, se ne attira l'insulto. Tante volte alla Bibbia ricorre il beffardo, qui lo troviamo almeno tre volte. Chi corregge il beffardo, lo riproverà il beffardo, e poi alla fine è una tragica sentenza. Se sei beffardo, tu solo porterai la pena. Il beffardo è proprio l'immagine dell'uomo che si irrite, che si fa beffe di Dio, della religione, della bontà del prossimo. Proprio è la quintessenza della superbia che arriva al disprezzo molto ironico e sarcastico del prossimo. E la corregione del beffardo non va fatta, perché non serve a nient'altro che attirarsi al disprezzo. L'impio è un uomo che è senza Dio, è un uomo che è senza Dio non perché non riesce a trovarlo, ma perché ha scelto di farlo meno. E chi riproverà l'impio se ne tira l'insulto. E chi è che possiamo, che dobbiamo a volte correggere veramente o riproverare, tanto qualche buon consiglio? Al saggio. Il saggio è colui che cammina in unità, cammina in ricerca, sa di non essere perfetto, non solo a parole, a fatti. e quindi accoglio volentieri un consiglio, un suggerimento, una critica costruttiva. Fa parte proprio dell'inesperienza, credetemi insomma perché io vi parlo per esperienza, sbagliare nell'andare a riproverare e correggere che non è opportuno riproverare e correggere perché non c'è nessuna voglia di ascoltarla che provano la mia voluzione. ma riproverare e correggere quindi questo vale anche per farci un po' di esame di coscienza davanti a Gesù. Noi come accogliamo una correggione? Una correggione che può essere diretta o indiretta. Faccio un esempio, ascolto una predica e mi accorgo che magari la predica colpisce un punto che mi riguarda un po'. Noi dobbiamo fare attenzione perché il Signore ci guarda il cuore. Allora, dal momento che il Signore non ha a mortificarci, capite, il proprio diretto è sempre una mortificazione. Infatti va sempre fatto con molta angolatezza. una volta per farti capire qualcosa lo fa attraverso dei mezzi come dire, che non facciano troppo male. Una predica il predicatore sta parlando a tutti di che ha detto che stia parlando a me. Eh, ma io lo so se quello che dice ti riguarda. E il Signore guarda il mio cuore. Se io sono una professore che cammina in conversione se una predica mi colpisce nel senno è io mi cambio. Cambio comportamento, cammetteggiamento, non rimango sempre uguale. Capite? Queste cose vengono nell'intimo del nostro cuore ma il Signore mi vede. Allora, ma dobbiamo chiederci davanti a Gesù come reagiamo quando ci arriva una colazione, un'esultazione o non cambiamo male, per esempio. Cioè, pensiamo di essere già perfetti perché non c'è niente che dobbiamo progredire, migliorare. Questo insomma. Eh, non basta non pensarlo però perché se poi da un punto di vista pratico io rimango sempre uguale. Anche se non lo penso ma di fatto io sono così. Ecco. Invece il saggio li ascolta e consigli. Non c'è, non c'è, non c'è, non ha problemi. Il giusto è contento di essere istruito perché cresciamo sempre di più verso il meglio. Da chi ancora lì mi consiglio la colazione non fa niente. Se ha un buon consiglio o una buona colazione la metti in pratica, l'ascolta. questa è la vita bella insomma dei figli di Dio. Una vita senza orgoglio, una vita senza stupide, superbi, una vita senza sciocche, suppomenze, d'accordo, orgogli o cose di questo genere. Molto importante questo punto migliori dei cari. Quindi vi prego e prego anche me di meditarci bene. non è un problema essere imperfetti o non essere santi. Questo lo diamo per all'alto. Il problema è essere flessibili, ma le armi doci, aperti all'azione della grazia perché il Signore ci porta questa passata e ripeto fino a quando è possibile lo fa sempre utilizzando modi e mezzi che non siano mortificanti per noi. Ecco, però l'importante è che noi siamo aperti perché sono innumerebili quelle fonti da cui il Signore ci purgola, ci stimola, cerca di farci di fretta è sempre in vista del meglio. Ecco. E concludiamo con la rivoluzione sull'ultima frase che è molto bella. Se sei sapiente lo sei a tuo vantaggio e se sei per fatto tu solo le volte avverranno bene. I peffardi che sono quelli che fino a quando rimangono così non ci si può fare niente nel Nuovo Testamento il ruolo del peffardo è assunto dai parisiè dagli voglini che ci si può dire a fare contro i parisi e che cosa ci ha fatto Gesù? Cioè Gesù ha avuto un fallimento totale sui parisiè e sui voglini ma non è un fallimento suo perché lui ci ha provato è una chiusura totale delle morte da parte di queste povere persone e chi campa così è campato in questo mondo che campa a stare e già una via invece chi è sapiente la sapienza consiste innanzitutto nel sapere profondamente di non essere un effetto e quindi di avere bisogno di crescere questa è una delle cose fondamentali della sapienza lo è proprio vantato perché questa forma di sapienza va crescere a meno perché guardate credete quando il Signore trova un cuore aperto fa tutto tu devi soltanto ascoltare il mano che capisci mettere in pratica non bisogna avere paura di cambiare i nostri atteggiamenti anche in maniera pubblica no fino ad oggi ho fatto così magari questo è un atteggiamento esterno poi se cambio e che cosa penseranno perché non ho personalità che sono una banderuola o che mi faccio influenzare se una cosa la devi cambiare e il Signore te lo fa capire in coscienza se tu lo ascolti questi discorsi non devono comunque esistere cioè se una cosa ti amico che la devo fare la faccio non te basta e se qualcuno ghiacchiera meglio che lui tanto ghiacchiereranno se non gli vuole ghiacchieranno se qualcuno pensa male peggio per lui l'importante è che Gesù pensi bene e questo è principio di vera sabienza e di vera intelligenza ci portiamo queste considerazioni al silenzio della nostra preghiera davanti a Gesù e l'Arestia per dialogare con lui chiedendogli che ci dovi davvero questa profonda sabienza del cuore che ci renda toci e averti a tutti i suoi insegnamenti come lezioni guarda il caso riprovi esortazioni bozzi perché possiamo tendere una vita sempre più santa e quindi sempre più felice siamo dato adorario ringraziato grazie grazie per Explorer equitabilità grazie grazie